benvenuti questa diretta di oggi 8 novembre per di 8 novembre vediamo che c'è ciao stefania che si dice su credo è arrivato già aspettiamo che al solito si popoli un pochino questa questa diretta io adesso non so se voi avete bisogno del che vi ricordi la diretta questo parlando dei veterani oppure ormai lo sapete lo siete segnati in calendario e quindi aspettate questa diretta del venerdì chissà ricordo per chi è nuovo e per chi è la prima volta che viene che segue la diretta del venerdì che abbia iniziato questi incontri così settimanali queste chiacchierate che poi in realtà non so chiacchierate ma parlo da solo tranne quando c'è qualcuno che invito che mi viene a trovare anzi se avete qualcuno che volete volete conoscere o volete invitare che invitassi allora magari fatemelo sapere poi se è compatibile magari lo chiediamo di partecipare i confronti così mi piacciono sempre sempre di più rispetto a quando sono da solo parlo da solo faccio tutte le mie voli pindarici ragionamenti che portano non so a che cosa anzi questo modo se dire voi ricordo che questa diretta perché non abbiamo iniziato a questa estate a luglio quando non avevo un cavolo da fare in realtà non è vero ma insomma il venerdì volevo avere questo contatto con con voi e quindi mi faceva piacere sono rimaste dovevo essere delle dirette in diciamo estive luglio agosto però in realtà poi sono diventate ormai un appuntamento settimanale quindi diventano anche il podcast quindi se non riuscite a seguire tutto non ci siete non dovete andare via insomma perché avete l'aperitivo che vi aspetta già il weekend iniziato siete in viaggio eccetera eccetera potete andare via ma meglio se qui rimanete qui naturalmente perché usciranno sotto forma di podcast il mercoledì alle 7 e 30 cominciate a dirmi qui se qualcuno di voi risegue o risente o rivede queste queste dirette magari tutte tutte quante durano una mezz'oretta con quarantina di minuti sotto forma di podcast potete scrivermelo qui vi vorrei un po più partecipi e c'è qualcuno che segue il podcast qui vi va bene come orario il mercoledì alle 7 e 30 io lo faccio perché mi immagino che siete in macchina per andare a regarvi in ufficio lavoro non so dove e magari ascoltate le cavolate che vi dico e quindi potrebbe fare compagnia mentre siete imbottigliati nel traffico eccetera eccetera quindi fatemi sapere se qualcuno di voi già che siete qui partecipa o ascolta o vede il post il podcast allora intanto vorrei vorrei fare una cosa oggi ve la lancio così io al solito ho delle domande che mi avete fatto me ne avete fatto un bel po più o meno sono sempre i stessi argomenti quindi vorrei vorrei potrei rispondere ad ogni domanda che mi che mi fate con diciamo che mi sono state fatte qui con una serie di video che praticamente ormai ho parlato di qualsiasi domanda vi fate c'è sempre un video che potrei proporvi allora cerco di trovare sempre il modo diciamo di parlare diciamo da più punti di vista anche se c'è sempre qualcuno di nuovo e quindi magari non mi ha mai sentito parlare però vorrei intanto leggermi leggervi velocemente dei temi qui in base alle domande che mi hanno fatto e ve li vorrei proporre e voi votate cioè nel senso che mi dite voi quali quali preferite di quali preferite parlare oggi cliccando qui ciò scrivendo qui nei commenti il magari una parola così io capisco allora qui si parla di ansia da separazione poi si parla di reattività al guinzaglio poi si parla di richiamo parliamo di passeggiata naturalmente sempre guinzaglio ansia da separazione di abbaio cane che abbaia a tutti il rapporto con diciamo col proprietario cioè l'attenzione su di me e non sull'esterno in qualche modo ci sentiamo scartati dal cane per diciamo dare che da sicuramente più attenzione o ad altro rispetto per noi paure di persone sconosciute il mordicchiamento che ormai questo è un tema abbastanza diffuso è sempre l'abbaio c'è un interessante più che altro perché diciamo golden di un anno e mezzo quando corre con gli altri cani non guarda le persone e spesso le prende questo è un tipico dei retriever che sono un po così con la testa in aria e poi ancora ansia da separazione se stessi d'accordo questa ansia del cane è quello del quello del il cibo quindi vi prego di dirmi qui anche con una sola parola nei commenti quello che vi piacerebbe parlare oggi e magari io nel frattempo vediamo nel frattempo però nel frattempo però volevo approfittare di diciamo di un ho letto alcuni alcuni pezzi del di un libro che io tengo sempre qui uno dei dei master che che è questo di qua lo faccio vedere per chi non per chi non vede quindi ascolterà il podcast è questo ma adesso ve lo dico liberi come conciliare regole bisogno di libertà del vostro cane di mark beckhoff e jessica pierce vi do intanto comincio vedo che cominciate a proporre i temi di cui ho parlato vi sto linkando qui su instagram nei commenti il link amazon se per chi volesse leggere questo libro ve lo consiglio tra libri consigliati ve lo consiglio io non lo anche questo non lo metto mai in libreria perché c'è sempre diciamo così è sempre una specie di va de mecum ok bello cominciate a perfetto grazie bella questa questa cosa vi state proponendo voi i temi e vorrei dire vorrei leggere un pezzettino che secondo me potrebbe anche essere legato a quello di cui possiamo parlare oggi per migliorare la vita del cane selezionate con cura gli stimoli sensoriali che provocano stress ed eliminateli potenziare la sua libertà significa proteggerlo da esperienze sensoriali indesiderate e fastidiose questo è quello che dice che dice mark beckhoff nel suo libro oggi si capisce adesso mi ricordo quale dei due autori ha scritto questa parte e questo secondo me è una frase che un estratto che è molto legato a questi temi che voi stessi state state proponendo qui e che mi fa pensare purtroppo ancora delle vecchie brutte abitudini secondo me che vedo fare per nel tentativo di risolvere alcuni problemi per esempio l'abbaio del cane abbai a tutti che sia una persona che sia un altro cane non lo so uno scoiatto qualsiasi cosa un gatto non ha importanza l'abbaio come ho detto tante volte è un una richiesta una un allarme un allarme che il cane da e soprattutto se si trova al guinzaio naturalmente esprime un forte disagio addirittura percezione del pericolo e il cane quindi va in forte stress in base a quello che a quello che vedo diciamo spesso e che vedo anche consigliare da alcuni esperti se il cane abbaia o comunque ha un problema con qualcosa quindi abbaia a qualcosa quello che si tende a fare è sottoporre il cane allo stimolo ancora di più tante volte io ho detto che naturalmente è una cosa innaturale questa perché se io dovessi diciamo prendo sempre i bambini quindi nessuno di noi sottoporrebbe una persona cara bambini figli o quello che è anche persone adulte a cui teniamo a ciò che li fa stare male cioè è proprio una cosa innaturale però col cane si cioè il fatto di tenere il cane esposto a ciò che lo preoccupa ciò che lo infastidisce ciò che percepisce come pericolo in attesa che stia buono per premiarlo non è a mio avviso secondo quanto crediamo noi in dog affair academy è un metodo che sia intanto che porti salute e serenità al cane ma che possa portare a dei risultati non lo ecco io che non sono nessuno ma naturalmente mark beckhoff che è un avuto l'onore di ospitare a casa in tempi non sospetti quando non sapevo chi fossi rendete conto cioè che questo me l'hanno portato a casa scusa un attimo americano un etologo che è importantissimo che mi hanno portato a casa perché è venuto a fare una conferenza qui a palermo a un certo punto si guarda mi dobbiamo dare una mano dobbiamo ospitare abbiamo fatto una scena io non sapevo chi fosse completamente quando ancora facciamo questo lavoro lui ha finito di ultimare non mi ricordo quale dei suoi libri che io ho in libreria l'ho ultimato a casa mia e poi a un certo punto ho una sua foto con un mio pappagallino qui e quindi poi dopo anni ho ricordato allora l'ho chiamato detto mark devi fare questo abbiamo fatto un webinar comunque questo piccolo inciso quindi mark beckhoff che sicuramente è un personaggio molto più intiso come diremmo noi qui in sicilia dice per migliorare la vita del cane selezionate con cura gli stimoli sensoriali e portateli via quelli che portano stress quindi significa se io mi ritrovo col cane al guinzaio che abbaglia o va in stress per qualcosa portalo via allontanalo lo stesso lui lo dice quindi quando io dico sta abbagliando vai via devi allontanarti non solo perché ti va in tilt tu e naturalmente questo ti permette ti evita di avere una mantenere una lucidità che ti possa far capire o far pensare cosa fare in quel momento quindi prima ancora di dire a un attimo perché lo fa il cane sta andando in tilt ed è difficile gestire un cane che tira con un pazzo si impenna perché sta abbaiando ad altre quindi quindi diciamo è difficile questo ma ripeto lo facciamo già con le persone care quando si tratta di cani poi andiamo contro tutto quello che noi facciamo che noi facciamo normalmente nella vita normale nella vita reale e che nessuno ci ha mai detto di fare quindi chi sa perché ecco perché secondo me poi andiamo in conflitto cioè voi diciamo ma perché il mio cane fa così non so cosa fare ma lo fai già durante le consulenze capita spesso che io a un certo punto ricordi alle persone guarda che l'hai fatto già guarda che lo stai facendo ogni giorno questo perché col cane non lo fai pure è come se ci mancasse questo collegamento cioè una cosa che faccio già tra umani che mi viene normale che quando lo dico la gente effettivamente sta in silenzio rimane così ma sai che non ci avevo mai pensato ecco perché non so qual è il bias cognitivo che ci allontana dal capire quello che dobbiamo fare però in realtà lo abbiamo già dentro lo sappiamo già fare quindi basterebbe soffermarsi un attimo su quello che facciamo e normalmente applicarlo con i cani e quindi un buon 50 per cento di problemi secondo me si potrebbero risolvere o comunque migliorare almeno senza dover ricorrere chissà a gente come me quindi sono andato contro i miei interessi giusto ma quello che mi interessa in realtà è prima di tutto il cane perché vedo cani effettivamente e quindi diciamo andate via poi naturalmente l'andare via cosa fa evito la bio è una cosa veramente difficile da cancellare per qualsiasi motivo quindi sarebbe meglio sempre non far abbaiare il cane allora nel momento in cui io non do al cane la possibilità di assumere e mantenere un comportamento non consentito non lo sto allenando faccio sempre il confronto con gli addominali no andiamo in palestra dove vogliamo la tartaruga qui posto agli addominali cosa cosa dobbiamo fare per 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 averle allenarci far addominali addominali se non facciamo gli addominali non si allenano e quindi non spunterà mai la tartaruga altrimenti ripetendo ripetendo e quindi dando occasione agli addominali di allenarsi e di rimuoversi si allenano si rinforzano ecco possiamo leggerlo al contrario ogni volta che io do al cane un'occasione per assumere e mantenere un comportamento non corretto che può essere l'abbaio il tirare al qualsiasi cosa io non lo cioè io lo sto allenando di contro se non lo non do questa occasione lo sto curando perché non si ripete se devi smettere di fumare non devi avere non devi fumare non devi avere le le sigarette lì davanti ecco per dire quindi questo è un principio che si può applicare a qualsiasi cosa allora e naturalmente stiamo parlando di un'altra cosa cioè nel momento in cui ci allontaniamo non soltanto il cane si allontanerà da quello che lo preoccupa e quindi piano piano si sgonfierà il suo livello di stress abbasserà e quindi ritornerà in una condizione di normalità e di tranquillità quindi più facile da gestire sicuramente solo mettere distanza non significa scappare ma significa mettere in sicurezza a proposito di sicurezza sempre mark beckhoff dice è altrettanto necessario trovare un equilibrio tra libertà e sicurezza come con i bambini dobbiamo evitare di essere troppo protettivi e dare al cane l'opportunità di prendere decisioni e assumersi rischi ma sempre con la nostra supervisione e il buon senso tante volte faccio confronti con i bambini cioè non intervengo per ogni cosa perché sennò non avrebbero modo di sviluppare una capacità di problem solving o di vedersela da soli cioè se c'è sempre papà mamma o chiunque sia il nonno lì allora naturalmente crescono degli incompetenti dei locchi così che non sanno fare nulla naturalmente la mia presenza in quanto leader naturale dei miei figli o comunque adulto regolatore chiamatelo come volete serve a sovrintendere come quando si eccede o quando non si raggiunge un equilibrio intervengo io perché sono il più saggio quello che ha più esperienza quello che ha più autorevolezza non un'autorità autorevolezza e quindi sempre per il mantenimento della sicurezza quindi dovete cercare sempre di mantenere questo equilibrio e vedere tutto in termini di sicurezza avete letto l'email di stamattina che abbiamo mandato la newsletter chi non è iscritto si può iscrivere nel sito avrà subito una lezione omaggio da parte mia ma oggi parlavo di sicurezza praticamente parliamo di tantissime cose qui stesso parliamo possiamo riprendere le domande che non so se oggi vi leggerò ma non solo dei temi passeggiata il cane tira il guinzaio ok c'entra la sicurezza sta proteggendo te gregario che sei dietro il cane legato al guinzaio non si sente sicuro com'è libero come quando è libero che potenzialmente potrebbe allontanarsi quando la cosa non gli conviene non sottovalutate il fatto che il cane è libero cioè il potenziale che ha il cane libero perché il cane libero è più collaborativo intanto perché non è intralciato da una serie di cose guinzagli pettorine o cose che diciamo lo limitano nella comunicazione nei movimenti ma anche perché ha un grande potenziale qual è questo potenziale se voglio me ne vado me ne vado e la maggior parte volte non se ne vanno perché in fondo è come se qualcuno di voi mettiamo che avete paura di qualcosa allora una cosa è proprio volete superare questa paura una cosa è che siete liberi di andare quando volete allora trovate le forze dentro di voi di rimanere per affrontare la paura la gestite meglio diverso è se vi tengono vi braccano dalle spalle vi costringono a stare in quello stesso posto voi andate in tilt cioè non siete lucidi queste cose le applichiamo con il cane anzi la separazione è sempre una forma di sicurezza perché il cane non si sente non non si sente sicuro pensa che non siate al sicuro voi dovete leggerla sempre al contrario e tutti questi temi che voi stessi avete proposto qui è una ecco brava di finanziamento avete nomi assurdi avevi forse un'era tua naturalmente cioè sono tutte condizioni di che hanno a che fare con la sicurezza sostanzialmente il cane ha bisogno di sicurezza come i bambini quindi se avete letto l'email di oggi se non l'avete letta ripetela perché diciamo ci ho messo passione nello scriverlo ma perché come sempre le newsletter sono un mio posto di condivisione se la leggete mi fa piacere altrimenti no ma serve a me prima di tutto esprimere queste cose poi però mi arrivano i vostri feedback vi ringrazio che comunque mi date in risposta e sicuramente ha a che fare tutto con la sicurezza vediamo vediamo un attimo delle domande che c'erano vediamo se vado indietro vado indietro abbaio in passeggiata i suoi simili ecco sì sì questo ne ho parlato marica devi solo andare via naturalmente io sto parlando di cosa fate sul momento cioè non è che se tu ti ritrovi col cane in passeggiate abbaia sempre ogni volta che tenevi via il risolto perché questi sono dei trucchetti delle cose da fare cioè cosa faccio sul momento per tirarmi fuori dai guai evitare quindi che il cane abbai abbai ancora ma nel momento in cui io faccio questo devo avere una base solida in cui consolido la mia leadership perché faccio in modo che il cane si fidi di me e mi veda come leader quindi il trucchetto cioè quello che faccio sul momento che poggia su un lavoro quotidiano e costante Mark Bekoff lo stesso ne parla diciamo di questo di questo di questo lavoro costante che dobbiamo fare e di questo studio costante che vogliamo fare se vogliamo il cane da completa l'opera la barbuncina mia mamma ha fatto qualche volta pipì sul divano letto che mi ho letto che mi prepara salto realmente per dormire da lei è una non c'entra niente la routine igienica questo mi è capitato diverse consulenti in questa settimana con alcune consulenze scambiate anche in un gruppo se non sbaglio in sardegna scambiate le la la diciamo la marcatura che sia fuori o che sia il divano il letto eccetera per bisogno fisiologico solo perché vedete l'urina non c'entra nulla è espresso sempre con l'urina ma quella è una manifestazione in status probabilmente anche nei tuoi confronti adesso dovrei capire perché che rapporto avete eccetera eccetera però se tu non vivi lì potresti essere anche un estraneo cioè non appartenente al branco non qualcuno che non ti conosce non è quello qualcuno appartenente al branco cioè non dormi non vivi lì con loro e quindi il cane mostra il suo status e marca con questo divano anche in questo caso c'ho un video sul divano quindi vattelo a vedere su youtube ragazzi su youtube trovate tutto trovate tutto e vi dico subito che questa settimana non troverete un video non solo perché ne avete 200 e passa da vedere e di corteggiare l'algoritmo di youtube non mi frega niente quindi semmai serve per voi questa settimana o la prossima settimana non ho lavorato al video e non troverete un video nuovo lunedì questo perché mi sto concentrando a fare delle cose a fare delle cose quali sono queste cose che non avevo se no altro modo dare una bella botta al libro che me lo state chiedendo tutti quanti e lo sto correggendo è lì dove ci sarà di tutto tutta una serie di casi che forse ci sono tutti i casi possibili che mi sono capitati e forse anche e quindi tutto il metodo applicazione eccetera eccetera potrete trovare già una sorta di estratto come dire di questo di questo di questo libro che è la guida sulla sulla leadership la guida sul metodo bdog che serve per diciamo come dire aumentare la propria leadership la vostra leadership attraverso il metodo bdog che oggi ho aggiornato perché dopo una prima edizione che rispetto a trovate qua me lo sto condividendo con questa guida trovate o degli aggiornamenti quindi per chi l'ha presa non troverà più un solo esempio di applicazione del metodo dopo averlo spiegato ma ve ne ho aggiunti ve ne ho regalati altri due perché me l'avete chiesto e mi ho detto guarda vorrei qualche esempio dopo le interviste che abbiamo fatto a chi l'ha acquistata per capire come potremmo migliorare ho detto metti qualche esempio in più di applicazione del metodo li trovate già lì li ho caricati oggi e avrete poi anche un'altra evoluzione di questa guida quindi mi sto dedicando a questo mi sono dedicato a questo oggi e mi sto anche dedicando a che domande fare a Emanuele Ruggero quando il prossimo 25 novembre alle 20 e 30 Emanuele Ruggero otterrà un webinar sull'età del cane posso immaginare che sia un tema un po' strano però l'età del cane è importantissimo perché ogni età ogni fase ogni fase naturalmente avrà una sua particolarità di gestione cioè gestire un cucciolo un giovane un adulto un anziano fino alla morte non è la stessa cosa e quindi cambia e allora l'esperienza di Emanuele naturalmente che ha vissuto diciamo tutte queste fasi come me naturalmente ci sarà un confronto diretto tra me e lei quindi vi invito sarà una cosa abbastanza interessante potete potete iscrivervi allora volevo ritornare a qualche domanda anzi a separazioni ogni volta che usciamo sembra che andiamo a un ululu per anni è certo ma anche se vai in bagno e ritorni per il cane è una festa è una festa e soprattutto se hai notato deve fare una sorta di check il cane cioè al ricongiungimento del branco ricordo che dopo la separazione il cane va ignorato da questo punto di vista perché è una fase abbastanza importante dove il cane tende ad alimentare ad eccitarsi facilmente dovete ignorarlo e non ci dobbiamo stranire se lui ci riodora di nuovo eccetera per essere sicuro che siamo noi non ci deve vedere non gli basta vedere lui deve odorare l'olfatto ricordatevi che è il primo senso del cane quindi è importantissimo che farci odorare finalmente ho capito che è giusto così grazie Simona non so a cosa ti riferisci ma mi fa piacere che hai capito ho detto tante cose che ho detto mi sono collegata da poco ciao non so se hai letto la mia domanda sul ricongiungimento a casa ah sì ho visto adesso mi ricordo non so come ti chiami perché è df non lo so sì da quello non l'ho pubblicata qui ma da quello che hai letto che ho visto dovrebbe essere corretto quello che fai non importa se il cane non ti viene a fare festa probabilmente per adesso stai rilassando cioè stai passando da una gestione all'altra cioè lei dice che è ritornata ha cominciato ad ignorare il cane al ricongiungimento del blanco e il blanco e il cane finalmente rimane lì rilassato a guardarla senza troppe cerimonie lo so se fossimo umani ah ma che cosa brutta che cosa triste eccetera eccetera e invece no probabilmente anche una fase di passaggio arriverà il momento in cui il cane tornerà a farti le feste che non sono la sovra eccitazione simona anticipare anticipare un suo comportamento dinanzi allo stimolo che lo agita con un no è sbagliato lasciate stare questi no lasciateli stare questi no ma proprio fregate no no siete tutti molto attivi simona non ce l'ho con te ci ho fatto pure due video sul no e ce l'ho col no o quelle persone che tendano a controllare il no voi non dovete dire no voi dovete stoppare un comportamento allora è meglio che assumiate delle posture naturalmente da casa a casa poi ci sono le varie variazioni delle posture che interrompono scoraggino il cane ad assumere qualcosa questo no intanto quante volte dite no voi ogni giorno e poi tendiamo sempre a parlare invece il leader sta in silenzio i cani non parlano stanno in silenzio c'è una comunicazione completamente posturale completamente diversa da quella nostra poi in realtà non è tanto diversa perché ci sono gli studi che dicono che noi in bassissima percentuale comunichiamo con le parole immaginate quindi cosa di cosa non ci accorgiamo dei gesti e del linguaggio che usiamo che è per l'ottanta e rotti per cento però non ce ne rendiamo conto pensiamo tutti a quel dieci bene in realtà era molto di meno la comunicazione parlata quindi non è un no lasciate stare i no è proprio un noi in consulenza questa settimana comunque capita spesso abbiamo stoppato dei comportamenti di alcune persone alcuni proprietari che dicono ah fa questo guarda guarda che fa guarda che fa guarda questo ok fai così finito e rimangono così ma invece scherzare che poi tanto scherzo non è non gliel'avevi detto cosa volevi da lui e non gliel'hai detto nella sua lingua ecco per esempio l'altra volta il divano cane non doveva salire sul divano salteva sul divano saltava sul divano ok bastato assumere una postura in video consulenza cioè online poi dico che non si possono fare e cane a un certo punto proprio ha dato la sensazione che dicesse al proprietario e potevi dirmelo prima che volevi che non volevi che salivo sul divano bastava dirlo cioè proprio questa la sensazione è talmente evidente quella reazione del cane che le persone a un certo punto poi stanno cinque minuti così senza dire niente perché non giustamente non riescono a capire quello che hanno fatto andiamo avanti sul gruppo sicilia ne abbiamo parlato e la tua email lo so l'ho visto vi ringrazio non so se è stata tu mi avete anche apprezzato ciao manu sempre ormai manuela manuela ruggero che qui a quelle lei che terrà il web che si tiene dietro le quinte carol sono due anni che dormo una volta a settimana da lei ha iniziato a farlo ultimamente comunque grazie mille lo guarderò assolutamente ok ciao la nostra metice di due anni incrocio bassotto bulldog francese quando si passeggia mangio di tutto per strada cosa si può fare per farla smettere non andare in passeggiata dice che cosa c'entra questo è pazzo no perché la passeggiata come ho detto potrebbe essere un pacchetto di esperti brutti di problemi non tutti li avete non tutti li avete tutti potreste averne alcuni non è solo il tirare al guinzaio per me la passeggiata è un'esperienza che può essere positiva o negativa e prevede un pacchetto di problemi tra cui anche questo il cane che prende tutto per strada intanto è un cane che non è rilassato che non è tranquillo e che preferisce prendere qualcosa per strada a voi allora è come dire fa una passeggiata con una con una con una donna e quella donna invece di stare con te a parlare lì guarda tutte le vetrine che ci vediamo dopo magari o io mi guardo la partita al telefono cioè non è non piace il calcio però diciamo potrebbe essere mi guardo il craft no il craft il telefono perché siamo a marzo e mi voglio seguire il craft allora quello che è importante è che relazione c'è tra quelle cose quelle persone allora io ti potrei dire ok si stai attenta metti il piede su anticipa il cane se ha preso qualcosa fai uno scambio tutti i soliti trucchetti ma poi avremo modo magari vuoi mi scrivi ne parliamo più approfonditamente ma quello che conta è ma perché il cane mentre è con te pensa ad altro chiaro non è lì è rilassato anche a monte devi dare una diciamo devi devi riflettere su chi sei per lui lo so che queste risposte fanno incavolare lo so lo so benissimo e che vi sembrano delle cose assurde però sta proprio qui il segreto nel fare questo switch mentale cioè lavorare io lavoro molto a monte chi mi conosce lavoro molto a monte molto a monte cercando di abbassare sempre più il rischio che avvengono alcune cose positive e negative allora quindi a parte il fatto che non c'è una ricetta ok fai così hai risolto no è una relazione è come ogni relazione si cura ogni giorno affrontando giorno dopo giorno difficoltà e lavori il proprio è proprio lo studio di cui parlava mark beckhoff fabrizio fabrizio noi luna resta nella sua cuccia va bene al ricongiungimento sì ma penso che sia una cosa penso che sia una cosa potrebbe essere una cosa provvisoria ma comunque meglio meglio che vada lì che vada che rimanga sulla cuccia che vada in sovraecitazione su di te emanuela parlare meno ma non ti riferisci a me spero lo so perché io io parlo adesso poi quando vado via non parlo più parlare meno intendo parlare meno con i cani spero ok manu che applaude non so a chi come nina che cosa avete visto l'intervista di nina simpatico biscionna vanese e di angelo naturalmente che si è prestata andate a vedere su youtube perché è veramente veramente uno spettacolo mi veniva voglia quasi portarmi a casa nina ma con angela che dietro mi assicutava perché è sempre a dieta ok sei tu che la metti a dieta non a te ho capito ma ho capito però ci sta va bene io bellissima bellissima chi è nina e giustamente chi poter ecco qui siete insieme stefania e angela siete insieme siete le due signore uno nord uno sul signore ragazzi insomma che avete due cani che io prima o poi vorrei fare incontrare potremmo fare a metà strada a roma o firenze in un trekking in toscana magari facciamo così perché vorrei vederle assieme e sarà uno spettacolo sono uguali anche se non hanno la stessa razza ma sono praticamente uguali uguali quindi vi invito a contattarvi qui rocca 999916 e angela salvo che naturalmente è diciamo la proprietaria la compagna umana vi conoscete tramite i miei video vi ho messo anche insieme in un video siete veramente cioè sono veramente uguali questi due cani e mi piacerebbe molto vederli dal vivo insieme quindi organizzatevi ci vediamo in toscana per il camp in toscana giugno magari potete organizzare stefania tu scendi angela sale angelo sto dicendo abbastanza in anticipo così sei ti puoi ecco anna li ha visti tutte e due sono bellissime vero metterli assieme è uguale sarebbe sarebbe uno dei miei sogni della vita per favore esaudite questo mio sogno ci vediamo in toscana magari va bene dopo queste cavolate io vi lascio ci vediamo venerdì prossimo no venerdì prossimo non ci vediamo vediamo se anticipo giovedì perché come al solito merdi sono in partenza e quindi sono sul vesuvio quindi andiamo dagli amici campani andiamo dagli amici campani che diciamo ci aspettano dopo da tanto tempo e quindi finalmente faremo questa scarpinata sull'ennesimo vulcano sull'ennesimo vulcano e quindi insomma questo potrebbe penso faccia felice loro ricordo che mi si è liberato per chi fosse interessato un un posto per il per il camp anche se abbiamo fatto sold out perché c'è stata una rinuncia per un infortunio purtroppo non dovete ragazzi dovete prima delle scarpinate dei trekking dovete rimanere a casa fermi così sotto una campagna di vetro se no poi vi infortunate non potete partecipare quindi mi si è liberato un posto per chi fosse interessato può cliccare qui sul link oppure andate lì nel sito sotto eventi e c'è ancora quindi un posto per chi vuole partecipare che volesse partecipare al camp sul vesuvio ricordo due giorni di trekking con pernottamento ci divertiremo tantissimo e ringrazio questa volta ringrazio le tante persone sono venute anche da fuori perché ci raggiungeranno anche dall'emilia e dalla sicilia quando di nuovo in lombardia ci vediamo a marzo a marzo in lombardia aprile in veneto adesso poi dopo dopo questo dopo l'emilia facciamo una pausa perché con l'inverno magari evitiamo però poi a marzo riprendiamo con i trekking ma sicuramente faremo consulenze andiamo a roma insomma a roma gennaio ci sono tutta una serie di volete che venga a milano per per consulenza fatemi sapere scrivetevi perché comunque stiamo ancora decidendo marica tu sei in lista d'attesa perché sennò diciamo te la perdi grazie a tutti voi ci vediamo spero giovedì vi farò sapere alla prossima settimana grazie sempre per chiuderemo a stare qui con noi ciao 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 Grazie a tutti.